Io credo che il senso di appartenenza è importantissimo, capire cosa vuol dire giocare nell'Inter e difendere questa maglia in qualsiasi parte del mondo credo che non apprezzo e credo che i miei compagni dovranno capire questo. L'ho individuato in questi due giocatori i miglior talenti che c'erano sul mercato. Primo allenamento, primo possesso palla e non gliela portavi mai via a questo ragazzo. Per il calcio italiano e per il calcio generale è sicuramente diventato una bandiera controlla il limite, il tiro, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, il capitano! Un giocatore che veramente ha fatto la storia del calcio. Zanetti è un grande. Avere un campione che viene riconosciuto come tale da tutte le altre tifoserie è una cosa indescrivibile. Grazie di tutto quello che hai dato all'Inter. Grazie perché sei stato con noi quando probabilmente pochissimi sarebbero rimasti e ti sei goduto poi quando molti ci sarebbero venuti. È veramente un esempio per tutti i giovani. Il capitano non c'è da dire niente, negli ultimi anni è la storia dell'Inter. Dire il capitano vuol dire Zanetti. Tanto onora il capitano e sarà sempre il nostro capitano. Mi ricordo i suoi movimenti nel campo che ci davano coraggio, ci davano modo di vincere.